Il terrore a cui rimanda il titolo di questo racconto, o la paura secondo altre traduzioni, è quello che Dmitri Petrovic Silinin prova nei confronti della vita. Io, amico caro, la vita non la capisco e la temo. Non so, forse sono un essere malato, un disadattato. All'uomo normale e fisicamente sano pare di capire tutto ciò che vede e sente, mentre per me è perduto il valore di questo pare e di giorno in giorno mi sto avvelenando di terrore. Esiste una malattia, paura dello spazio. Così anch'io sono malato della paura della vita. Quando, traiato tra l'erba, guardo a lungo un insetto nato soltanto ieri e che nulla comprende, mi pare che la vita di quell'essere consiste in un complesso di terrore e in esso io scorgo me stesso. Tutto mi incute terrore. Io sono per natura un uomo piuttosto superficiale e poco mi interesso a certi problemi, come quelli del mondo dell'aldilà, del destino dell'umanità e in genere molto di rado mi elevo ad altezze celesti. Soprattutto mi incute terrore la realtà della nostra vita quotidiana alla quale nessuno di noi riesce a sfuggire. Io sono incapace di distinguere ciò che nelle mie azioni è verità da ciò che è menzogna e questo mi sconcerta. Sono consapevole del fatto che le circostanze della vita e l'educazione mi abbiano rinchiuso in un'angusta cerchia di menzogne che tutta la mia vita non sia altro che la quotidiana preoccupazione di ingannare me stesso e il mio prossimo e di non accorgermene. E mi terrorizza il pensiero che fino alla morte non riuscirò a liberarmi da questa menzogna. Oggi faccio una certa cosa e domani non capisco già più perché l'abbia fatta. Prestavo servizio a Pietroburgo e ne sono rimasto sbigottito. Sono venuto qui per occuparmi della mia azienda agricola e ne ho provato lo stesso sbigottimento. Mi accorgo che noi sappiamo assai poco e perciò ogni giorno sbagliamo. Mi accorgo che siamo ingiusti, calunniatori che roviniamo l'esistenza altrui. che disperdiamo in nostra forza per sciocchezze che non ci sono necessarie e che ci impediscono di vivere. E questo è terribile in quanto non comprendo a che scopo e a che cosa queste cose occorrono. Io, mio caro, non comprendo gli uomini e ho paura di loro. Mi fa paura osservare i contadini. Non so per quali alti scopi essi soffrano e per che cosa essi vivano. Se la vita è un piacere, allora essi sono uomini superflui, inutili. Se invece lo scopo e il senso della vita sono la miseria e l'ignoranza invincibile e senza speranza, allora mi riesce incomprensibile a chi e a che cosa serva questo tormento. Non comprendo nulla e nessuno. Dimitri è un uomo di trent'anni, intelligente, buono, sincero, che manda avanti la sua azienda agricola. L'amico, cui rivolge questa drammatica confessione, è la voce narrante del racconto. Ci dice di andare spesso a trovarlo nella sua azienda per due o tre giorni. E certo perché gli è amico, anche se con un'intensità assai minore di quella che Dimitri ha per lui. Anzi, l'amicizia di lui è così totalizzante che lo imbarazza. Ma c'è un'altra ragione per cui va a trovarlo spesso. Ed è che gli piace straordinariamente sua moglie, Maria Sergeyevna, una donna giovane, molto bella ed elegante. Non che ne sia innamorato, ma gli piacciono il suo viso, i suoi occhi, la sua voce, il suo modo di camminare. E un'altra confidenza che Dimitri fa all'amico, un giorno in cui è loro ospite, è proprio circa il loro matrimonio, apparentemente perfetto e che tutti gli invidiano. Non è affatto così. Si sono sposati solo per le insistenze di lui, pazzo d'amore. Lei ha ceduto solo alla sesta volta che l'ha chiesta in moglie, dicendogli di non amarlo, ma che gli sarebbe stata fedele. E ora questa vita familiare, sono arrivati anche due figli, in cui lui ama senza essere riamato, che non capisce, che lo confonde, è la sua più grande infelicità, il suo più grande terrore. Giunta la sera, Dimitri va a colicarsi presto. La mattina dopo dovrà alzarsi alle tre e lascia l'amico in compagnia della moglie. E tra i due, dopo qualche schermaglia amorosa, sguardi di desiderio, approcci e ritirate, complice a una magnifica notte di luna, si consuma un incontro appassionato, rivolgente, anche se per lui vuole essere solo un'avventura. Avrei voluto che quella notte di luna balenasse nella nostra vita come una luminosa meteora. e basta. Mentre lei vi rivela il suo amore che dura da due anni e lo supplica di portarla con sé. Quando Maria lascia la sua stanza, sono giusto le tre, lui, dalla soglia, la segue con lo sguardo, ma in quel mentre sopraggiunge il marito. Ieri ho dimenticato qui il mio berretto, disse senza guardarmi. Lo trovò e se lo calcò in testa con ambo le mani. Poi fissò lo sguardo sul mio viso turbato, sulle mie pantofole e proferì con una voce non sua ma stranamente rauca. Si vede che fin dalla nascita sono stato destinato a non comprendere nulla. Se voi comprendete qualcosa, allora mi rallegro con voi. Nei miei occhi c'è buio pesto. E uscì tossendo. Poi dalla finestra lo vidi in tento vicino alla scuderia ad attaccare i cavalli. le mani gli tremavano. Cercava di affrettarsi e si voltava a guardare la casa. Pareva in preda al terrore. Poi salì su un tarantass e con un'espressione strana quasi temesse di essere inseguito frustò i cavalli. Dopo poco partì anch'io. Ormai stava sorgendo il sole e la nebbia della notte si stringeva timidamente ai cespugli ai poggi. quel terrore di Dmitri Petrovic che non mi riusciva di cacciare dalla mente si comunicò anche a me. Pensavo a quanto era accaduto e non capivo nulla. Guardavo le gracchie e mi pareva strano e pauroso che esse giungessero a volare. Perché ho fatto questo? Domandavo a me stesso pieno di disperato sgomento. Perché la cosa è accaduta così e non altrimenti? a chi e per che cosa era necessario che il mi amasse seriamente e che lui comparisse in camera mia a prendere il berretto? E che c'entra qui il berretto? Quel giorno stesso partì per Pietroburgo con Dmitri Petrovic e sua moglie non mi incontrai più. Si dice che continuino a vivere insieme. e che continuino